Roll out here Mr. If you need a little rest Roll out here Mr. If you need a little rest Cari amici di Pesca TV, siamo qua al porto di Figari, Corsica, costa ovest, sud-ovest Siamo in compagnia di Johan Leber, siamo per uscire per una battuta di Pesca dedicata all'utilizzo delle soft baits con le tecniche verticali La difficoltà principale è quella di cercare subito di capire quando l'esca va a contatto col fondo che cos'è il fondo e quali sono le toccate perché a seconda dei pesci sono diverse e molto diverse dallo spinning e in particolare quando invece non si tratta di spariti ma si tratta di cernie la mangiata quasi non esiste Quali sono le differenze fra la tecnica di pesca che utilizzi con soft baits in atlantico per pescare principalmente la spigola e invece quella che utilizzi qua nel Mediterraneo per insediare gli spadidi come dentici e paraghi? Nei primi tempi abbiamo iniziato utilizzando la stessa tecnica che utilizzavamo per la pesca alla spigola in atlantico Tuttavia nel Mediterraneo abbiamo normalmente degli spot di pesca più profondi e quindi il problema più grosso è stato quello di far affondare bene le nostre esche soprattutto quando sono di taglia piccola e peso contenuto oi oiii Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.